Nell'isola di Tongatapu, il regno di Tonga dovrebbe essere zona delle Filippine, se non erro, siamo vicino all'Australia, alle isole Fiji, tra le isole Samoa e le isole Fiji, quindi siamo sempre su brandelli di terra che sicuramente appartenevano a regioni in epoche antiche molto più estese e anche qui troviamo immense mura e pietre ciclopiche che sono vestigia di un'epoca di cui non è rimasta assolutamente memoria. Questo è il triliton chiamato triliton aamonga, triliton vuol dire le tre pietre che sono incastrate, vedete a mo' di forcella questa incastrata sulle altre due, estremamente rosa, qui ne vediamo altre viste e quindi le pietre ci dimostrano che nell'antichità c'era qualcuno molto abile in questo tipo di lavorazione che aveva tecniche anche di sollevamento di enormi masse pesanti ma di cui a noi non è giunta praticamente niente e che l'archeologia ufficiale allegramente ignora. A scuola nessuno ci ha mai parlato di queste robe. Il triliton di Aamonga è alto 5,2 metri, spesso 1,4 metri e largo 5,8 metri. I due pilastri pesano tra le 30 e le 40 tonnellate. Vi sono altre costruzioni sull'isola di Tongatapu che sono queste pazzesche, dicono che siano delle tombe megalitiche e dei regnanti. E di nuovo riscontriamo più o meno comunque queste forme costruttive che usavano inopinatamente e assurdamente delle gigantesche masse di pietra finemente lavorate e con grandissima abilità poste in opera. I romani che hanno costruito tantissimo avevano classici mattoncini piccolini facilmente trasportabili quindi è una tecnica diciamo così umanamente secondo la logica attuale concepibile invece queste tecniche lo ribadisco sono umanamente e attualmente inconcepibili cioè non ne capiamo la logica del perché queste popolazioni in epoche remote costruissero in questo modo. Evidentemente per loro era molto facile costruire in questo modo perché sicuramente è facile spostare il maltoncino grosso così ma per coprire un'estensione di questo tipo ce ne devi mettere 1300 di mattoncini lì ci metti una pietra e è risolto il problema però metterci una sola pietra invece che 1300 mattoncini rappresenta un salto qualitativo in termini di conoscenza e di tecnologia per noi impossibile da spiegare.